Anche Ivan Boraggine, uno dei protagonisti di Gomorra, a sostegno dei lavoratori Whirlpool Indesit, perché hai deciso di metterci la faccia per sostenere gli operai? Perché credo che, innanzitutto queste persone hanno necessità e bisogno, sono tante famiglie, sono persone semplici che campano con questo che hanno. Togliere questo a loro significa togliere un semplice supporto, anzi non semplice, per loro è tantissimo, a tutte le loro famiglie, a tantissime persone, perché sono in questo stabilimento nel quale sta accadendo tutta questa problematica, sono 800 e passa dipendenti, solo dipendenti. Se vogliamo poi moltiplicare per tutte le famiglie diventerebbe un numero esorbitante. Quindi io credo che, già a livello umano, sia una cosa da dover fare, non d'obbligo perché nessuno ci ha obbligato a fare nulla, però col cuore, siccome io poi agisco sempre con l'anima e con il cuore, mi sono sentito voglioso di metterci la faccia e di essere a supporto per quello che posso fare a supporto di queste persone. Alla luce della notorietà di Gomorra, soprattutto in Campania, anche se è diventato un fenomeno internazionale, potresti convincere qualche tuo collega o qualche altro attore a sposare la tua stessa battaglia? Guarda, io sposo la battaglia in prima persona, poi sta alla sensibilità di tutte le altre persone mettere il proprio volto, cioè non posso fare un appello a loro in primis a mettere la faccia, io metto la mia, quindi già questo per me è un messaggio. Ma più che altro, più a che ai colleghi, credo che il messaggio debba essere indirizzato alle persone che hanno portato a questa situazione, quindi cercare di risolvere quanto prima questa situazione, quindi non è il fatto di metterci la faccia o mettere qualcun altro la faccia, il fatto di mandare un messaggio a coloro i quali possono risolvere questo problema. Sappiamo che il contesto non è quello più idoneo, però i telespettatori sono in attesa della nuova serie, il sindaco Michele Casillo sarà più bravo, più onesto, insomma come sarà? Guarda, non posso dire nulla, allora qui c'è Ivan Boragine a sostegno di questi lavoratori, il sindaco Casillo è un personaggio, è questo politico, come simbolo può dare un messaggio in concomitanza con Ivan, ma Michele Casillo è un altro personaggio che è buono, cattivo o quant'altro, ma lasciamo stare nella serie, nella finzione, ecco diciamo. Qui c'è Ivan Boragine che da buono, spero di essere buono, è qui a sostegno di queste persone, ecco quindi non posso che dire altre cose, ecco. Il noto attore di Gomorra, Ivan Boragine, conosciuto come il sindaco Michele Casillo nella serie TV di Sky, a sostegno di voi lavoratori Whirlpool Indesit, insomma un segnale positivo, un'attenzione che magari vi dà un po' di fiducia in più. Sì, a noi fa molto piacere, dei ringraziamenti vanno soprattutto al mio amico Mimma Aurimma, che ci ha dato la possibilità e la visibilità di avere Ivan con noi, dalla parte nostra del sostegno di Carinano e sia dell'Indotto, che Acroplastica si è affiancata da un po' di mesi vicino a Carinano per sostegno in questa guerra. Ci stiamo organizzando per il 12 per far sentire anche la nostra voce a Varese e che la nostra voce sarà Carinano non si tocca ma nemmeno Acroplastica. Sempre con Aurimma tu hai contatti per sensibilizzare anche qualche organo di informazione nazionale, qualche tv nazionale. Qualcuno potrebbe criticarvi in mania di protagonismo, invece la politica sta dando poche risposte e questo è l'unico modo per cercare di sensibilizzare e fare pressione proprio sulla politica. Sì, infatti noi siamo a fianco a Mimma Aurimma Cirlacchi, lo ringraziamo ancora una volta per averci dato anche più di una possibilità, oltre ci stiamo organizzando altri eventi, tutti gratuiti perché noi ci mettiamo la faccia, lui ci mette il cuore, essendo anche amico mio è amico di tutti ed è solitario anche al problema di Carinaro. Prosegue la lotta dei lavoratori Whirlpool Indesit di Carinaro. Oggi c'è stato un incontro con Ivan Boraggine, uno dei protagonisti di Gomorra. L'altro giorno siete stati in Vaticano, ricevuti da Papa Francesco. Vi resta ormai solo questo per cercare di non far spegnere i riflettori sulla vostra vicenda, su un'avvertenza drammatica per migliaia di persone? Allora io mi aggrego ai ringraziamenti che ha fatto Fabio e voglio aggiungere che oltre a ringraziare Ivan, ringrazio anche voi e sapete perché? Perché noi quello che chiediamo è che i riflettori, dopo questa campagna elettorale che è stata fatta, non vengano spenti sulla nostra avvertenza. Abbiamo cercato in tutti i modi di contattare le persone più in vista, tant'è vero che come hai detto tu ieri siamo stati dal Papa. Il Papa nel suo appello ci ha menzionato e noi speriamo che l'appello che ha fatto il Papa vada al cuore di questa multinazionale e che finalmente riesca a farci intravedere lo spiraglio di un cambiamento del piano. E vorremmo anche che tutti i politici che sono venuti durante la campagna elettorale nel nostro stabilimento a garantirci, a farci delle promesse e a prendere degli impegni vengano oggi a chiusura di campagna elettorale per dire manterremo i nostri impegni. I lavoratori stanno facendo la loro parte, scioperi, perdono altri soldi sulla paga però sappiamo tutti che il no dovero si gioca a Roma. Il governo deve intervenire e risolvere questo problema. Secondo voi sta facendo tutto quello che dovrebbe fare e che cosa dovrebbe fare in realtà? Allora secondo noi il governo sta andando molto a rilento. Noi lo abbiamo detto più volte, abbiamo detto che siamo stanchi delle dichiarazioni che fanno la Poletti e il ministro Guidi. Secondo noi adesso ci vogliono i fatti. I fatti sono quelli di proporre a quel tavolo o di mantenere l'accordo precedentemente siglato, siglate anche dal governo, oppure di portare una nuova emissione produttiva a Carinaro che garantisca ai lavoratori che oggi stanno facendo questa battaglia e non si fermeranno un lavoro futuro.